Sono gli operatori che assistono gli anziani nelle residenze sanitarie, gli addetti di centri e punti medici. Sono professionisti, assistenti sociali, medici, infermieri. Oltre 10.000 in Veneto i lavoratori della sanità privata che chiedono il rinnovo di un contratto fermo da 14 anni. Il rinnovo a Padova riguarda quasi 2.200 lavoratori in tante strutture importanti, Casa di Cura di Abano, Parco dei Tigli, Nostra Famiglia, l'OPSA e tante altre strutture che si occupano di sanità tramite l'accreditamento. Sipendi più bassi rispetto agli enti pubblici che erogano le stesse prestazioni, tanto da causare in un periodo di sblocco di assunzioni in ospedali e aziende sanitarie un vero e proprio esodo. La differenza economica a parità di prestazioni di circa 160 euro mensili e lo stop completo della contrattazione è decentrata perché quando non hai il contratto nazionale sottoscritto non puoi andare neanche in sede locale e cercare quei rimedi che seguono anche le normative vigenti. Ricevuti dal vice prefetto, martedì i lavoratori della sanità privata del Veneto saranno in regione per incontrare l'assessore Emanuele Lanzarin. Lunedì prossimo ci saranno assemblee in tutti i luoghi di lavoro e anche presidi e questo ovviamente è solo l'inizio di una mobilitazione che se non apporterà risultati in breve tempo andremo allo sciopero generale.